Conclude il corso aperto, i grandi in maschera di Arnaldo Galli, che torna così a vincere. Poste su un asse di 10 metri, le figure staccate e distanziate di Cassius Clay, Gianni Rivera, Kissinger, Brezhnev, Mao Zedong e Fanfani, alto due spanne, meno degli altri. I grandi dello sport e della politica, vestiti da pagliaccio e cordialmente caricaturati. L'Italia, vista la statura internazionale, è lì solo grazie all'ironia del costruttore. La Giulia ha scritto, ha superato gli schemi tradizionali, inserendosi più di ogni altro nelle esigenze del Carnevale Aperto. Dopo il tramonto, sulla scena dello storico Carnevale Aperto, i fuochi artificiali, che tornano sempre a dire, arrivederci!